un video del tutto singolare questa sarà una recensione di pancia poco impostata perché dettata dal puro nudo crudo entusiasmo cosa sta succedendo alla saga di so perché proprio nel momento in cui mi ero detto che l'avevano tirata troppo per le lunghe soprattutto con gli ultimi tre capitoli arriva un decimo o per meglio dire x perché hanno messo una x sopra le bravate le parentesi scabrose e misere dal quinto capitolo in poi tutto ogni volta confuso inventato di sana pianta per andare avanti per inerzia puntando sempre solo su trappole esagerate dal punto di vista del gore e ora kevin guttert montatore di sei capitoli di so compreso il primo e regista del sesto e del settimo ritorna col botto un film che può essere preso considerato stand alone con una trama chiara sintetica ma sincera importante per l'approfondimento dell'uomo john kramer prima di dedicarsi alle trappole nel ruolo di enigmista renderlo dunque vulnerabile ferito preso in giro da un gruppo di truffatori che gli hanno riservato un trattamento truccato per superare lo scoglio del cancro e sperare in una rinascita che alla fine fasulla avere come vittime delle persone spreggevoli immorali in particolare un personaggio che è il perfetto avversario per jigsaw ed è il vero primo vero villain nella storia di so al punto tale da assistere ad un testa a testa fra due menti deviate a modo loro so x è un thriller mascherato da horror splatter segue esattamente l'operazione del primo di james one ma con mezzi evoluti e con una cura maniacale per il fattore emotivo crescente un approccio direi drammatico che non avevamo ancora esplorato nella saga anche perché john kramer è affiancato dall'iconica sopravvissuta amanda e i due toby bell e shawnee smith come attori formano una chimica ineguaiabile e fresca ancora oggi fresca perché era quello che ci serviva per rivoluzionare il franchise paradossalmente tornare alle origini alla serietà nel regolamento di toni atmosfera a interpretazioni sentite e non al servizio della carneficina ai limiti del gratuito ci sono talmente tanti piccoli pregi come tasselli che compongono un film da premiare assolutamente proprio come film in sé intendo è come effettuare un remake del primo rendendolo più moderno cambiando il protagonista e spostando l'attenzione interamente sull'enigmista su cosa lo ha spinto ad apprezzare di più la vita un dono che gli è stato portato via con la forza quanta fiducia da riporre nel suo successore perché condurre una crociata per ripulire le coscienze di persone che hanno compiuto solo scelte sbagliate o dettate dall'orgoglio ambientarlo tre settimane dopo gli eventi del primo come riportato dai produttori e quindi tra il film di won e il secondo capitolo è stata una mossa vincente non la si non è una forzatura ma una possibilità concreta per conoscere finalmente il lato umano e non diabolico dell'enigmista e toby bell non si limita alle comparsate per dispensare colpi di scena no 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 ora ce l'ossorbiamo tutto e si prende il palcoscenico cosa cambia rispetto agli altri capitoli lui è sulle scene per l'89 per cento della durata è presente durante le torture a osservare i comportamenti dei malcapitati e la regia di greutert che non mi aveva mai convinto qui splende sa esattamente come farci respirare una sequenza che sia avvincente commovente o delirante nella brutalità c'è tensione c'è da trattenere il fiato da disgustarsi genuinamente e c'è da rimanere stupiti per il crescendo di colpi di scena talvolta inaspettati il montaggio poi è schizofrenico in pieno stile anni 2000 ritornando ai primi passi durante ogni prova sanguinolenta la fotografia poi si muove fra spazi neutri colori tendenti al bluastro o al seppia per sottolineare il tormento di kramer e anche per porre omaggio alle basi del franchise con colorazioni e palette simili l'unico aspetto che c'è saltare all'occhio che può far storcere il naso di fronte a dei pregi di assoluta rilevanza è lo sviluppo di certe trappole e il limite di sopportazione del dolore che dovrebbe sfociare nello shock nello svenimento immediato almeno io avrei vomitato l'anima e sarei andato ko senza procedere oltre con la prova in molti dei casi rappresentati in questo capitolo ma c'è stato anche molto di peggio dal quarto in poi o magari il dolore può essere affrontato con tanta adrenalina in corpo se ci si vuole liberare in fretta quindi posso anche passarci sopra per il resto non c'è nient'altro di sbagliato di fuori posto lo ammetto con mia grande sorpresa è stata un'esperienza memorabile al cinema perché nella mia vita mai avrei pensato di rimanere stupito di fronte a un capitolo 10 di un franchise ci è arrivato solo fast and furious per quel che ricordo con risultati agghiaccianti qui c'è un capitolo 10 che supera pure il film cult di james one per mezzi aggiornati e per una scrittura che ci rende finalmente partecipi del dolore e del limbo straziante di un uomo che non ha più nulla da perdere ma solo da guadagnarci risparmiando se possibile vittime che possono essere redenti quindi wow precipitatevi in sala dal 25 ottobre perché non posso fare ancora spoiler non vedo l'ora di parlarne con voi un saluto e un abbraccio carissimi seguaci del raccata film ciao alla prossima